Let's play Ciao a tutti, scuole più sciolini, benvenuti in questo nuovo video di CSGO Oggi siamo in compagnia di A.M.Albino Quella Allora, vi devo dire una cosa bella Sì, vi volevo dire in questo video una cosa molto molto bella che mi è piaciuto Ovvero, avete capito che è inutile insultarci sotto i video E infatti ci state dando dei consigli Tipo, ho visto anche dei commenti che volevo rispondere giusto così per darvi chiarezza Allora, tipo un commento a caso prende E comunque, cioè, io non mi riferisco ai commenti Cioè sì, mi riferisco ai vostri commenti Comunque, non è che se vi rispondo non prendetelo come un insulto, come qualcosa E semplicemente voglio rispondervi, punto Non è un insulto, è giusto per chiarirci o stronzate così Niente insulti Per me è sinceramente un gioco Faccio cagare, lo so, è tutto Allora, ehm, volevo rispondere Ma giochi a 15 fps, che giochi a fare? Cerca di fare altri di, cioè altri giochi, stronzate così Allora, sinceramente a me il gioco piace E mi sto, cioè, sto anche impiegando nel tempo Sto anche impiegando nel tempo a giocarci E... per imparare Cioè, il gioco mi piace e voglio mostrare il gameplay, punto Questo è tutto E chi l'aveva cercato a quello? Stavo parlando, lo giuro, non l'avevo visto Ehm, questo è tutto Cioè, il gioco a noi Non solo a me parlo, proprio per Tutti i miei 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 D'Italia Sharks A parte Alessandro che gioca con 15 fps Piace Quindi, ehm, questo è venuto a culo Quindi, ehm, noi continueremo a farlo Con 14 fps, 20 fps, 25 fps Giochiamo, puta E poi mi rispondo ad un altro commento Tipo, preso a caso Ma non è vero che 10 fps sono pochi 15 fps, io 20 fps Gioco a 20 fps, sono arrivato a 9 a 4 In realtà, mi... in effetti ha ragione Cioè, io sinceramente Faccio un po' fatica a giocarci con 15 fps Ma... si può dire che... Oh, mori o no? Si può dire che... Sono abituato a giocare io a 15 fps in tutti i giochi Quindi... Non è che il problema CSGO O altri giochi Il problema è proprio il computer Non ho un computer E sinceramente smettere di fare video Perché... Ho 15... Ho 15 fps Cioè, io non ho un computer Questo è un i3 del cazzo E ci gioco a CSGO e ci recco Cioè, quindi devo baciarlo Cioè... Poi, ehm, anzi ringrazio a tutti Per i commenti positivi E gli aggiusti Che ci state dando Infatti sto... Cioè... Vi ringrazio molto Perché... Anzi, dopo... Cioè, se mi scrivete i nomi in basso Io cerco di aggiungervi E magari giochiamo insieme E mi spiegate qualcosa Ecco... Vabbè... Quello ho sbagliato Io ammiravo Perché sto seguendo Devo un consiglio Che mi ha dato uno Cerca di sparare in testa Anche se muori Non fa niente Almeno impari a... A fare gli instant headshot Eppure c'ha ragione Tanti un dit match Del cazzo Le kill me ne frega Infatti quello Che sto cercando Di fare È problema Che non ci riesco Dica, dica Che sono ratti Che insultano te Ma non insultano me Eh, vorrei pure io Che insultare Sì Perché? Allora, voglio Nel prossimo video Cioè, in questo video E nel prossimo anche Voglio tantissimi like Giusto così? Dovete insultare me E mi raccomando Quel dislike Appena posto il video Su qualsiasi video Io, mani Siete spacciati Postiamo un video Su YouTube Ci deve stare sempre Quel coglione Che mette il dislike Punto Un secondo Un secondo Ho messo il video prima Dislike Ma Ma Non ti sei visto Ma in quel video Che metti a fare Il dislike Scusami No, sinceramente Se dovete Insultare Come C'è anche un video Un commento Che ci ha insultati Se dovete insultarci O cose varie Non guardate il video Anche perché Io ho 18 fps Ci gioco Voi vedete Fluido Non vedete Io Che gioco a scatti O Stronzate così Sì Faccio fatica Ma faccio fatica io A giocare Mica voi Vedi Vedi Quello L'ho fatta io La killer Era invisibile Ciao bello Mettai I nemici Alessandro Non trovo più Oh ciao bello Come mi avete detto Miro in testa Ho mirato in testa Ale mi ha spavonato In faccia D'erafk Ho mirato in testa Però Zitti 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 Questa è la potenza Di 5 fps Eccolo 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 No No Bastardi Dovevi uccidermi L'amico Afk Siete delle merde Ma tipo secondo me La mia casa è infestata Da insetti Cioè insetti Da per tutto Pure in culo Ma che cazzo Ti fermiti Fermiti Non riesco a prenderti Aspetta White me please Affacciti alla finestra Amore mio Ci diva quello Dato E lo sapevo Avevo sentito E mi ha ucciso Stuprato Di merda Ciao belli Non mi spavano Uno qua sotto Io riesco a prefire Io riesco a prefire No Sìììì Ho fatto la doppia Ho fatto la doppia Non so nemmeno Ho sparato lì Ho visto gente Ho sparato Ho fatto la doppia Oh Ho visto gente L'ho presa Io l'ho preso Fittati Ma io 5 HP Che dite Ci vado Camper 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 Guardate Se faccio quella 18 mi devo dare Pezzo di merda Figlio di Aia Quello c'era la mamma puttana Lo stavo umilando Da mezz'ora Viene quello Dall'ultimo hit Piacere Si è fatto la kill Bravo No va a cagare Va a tu Va a cagare Piacere Va a cagare Aspetta Non sto iniziando A capire niente Dopo poche PPS No ma No Ma Muori Grazie Ciao Ciao Vabbè E' No scopo Mi ha preso Quello Vai giù Dai Poi mi dite Che non so Giocare Quello Spur Alessas Cool E' No scopo Poi mi insultano Ma che è Guarda qui Insultate quello Guarda quanti colpi 3000 colpi Per uccidermi E non mi ha ucciso Aspetta vi sto facendo il replay A meno io l'ho preso Quello Aia Ho buttato Ale 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 Parlo un po' con Aspetta Ecco porco Mi stavo grattando Ciao bello Ciao troller Ciao troller Sono una persona triste Mi è spawnato dietro Questo spawnò qua sotto Guarda Ah voi mi insultate O uccido le galline Ok vai Guarda questo Oh sto mirando in testa Eh Ma sono pro Vale Ho fatto una case Da 700 Che culo Quello Eh vabbè però Gli hai Due colpi Due hs Ma che cazzo è Ma che culo di me Sta a mille Sta a mille È short Sto sentito È dietro Dov'è Ah ecco Oh Ti stai fermo È dagli Vabbè Alessandro Non stanno fermi Lo capiscono che se non stanno fermi O camminano lentamente Io non li prendo Io sono più coglioni di tol Che sparo Perché così dopo finisco i colpi E loro mi uccidono Ma queste sono le meccanics By mine Ma nel 98 Ma questo lo faccio soprattutto Oh È mio È mio Di coltello Di coltello Di coltello Di coltello Di coltello No Pezzo di meccanum Ma puttana Cioè Alessandro Lo stava conternando Eccolo Sì Let's do this Se vedete che butto la mira così È perché c'ho Tipo il mouse Che Sono abituato a giocare Con lo sporco del mouse Sono una brutta persona Per questo Lo so Però Guardate Io ho fatto pure un achievement Quindi Non guardate questo video Mi raccomando Il titolo sarà Non guardate questo video Vi annuncio il titolo Prima che finisce il video E in tutto questo È finito il video Quindi ci sentiamo Nel prossimo video Ricordateci Di seguirci su Su tutto Su tutto Guardate il mio score prod 21 1 2 21 1 22 Alessandro Adesso dove stai facendo 16 3 25 Vabbè dai Almeno Vabbè rispetto a quello Dell'altra volta Seguiteci su Facebook Google Plus Twitter Instagram Facebook Tutto Io tutto Seguiteci su tutto Su tutti Su tutto E mi raccomando Mettete tanti like A questo video Mi raccomando Insultateci nei commenti E Ci vediamo al prossimo video Comunque Vi ripeto I video su CSGO Li faremo Se non Se non volete Non guardate Non guardate Non siete costretti A guardare Il video di CSGO Perché il 70% Dei video Saranno a 15 fps Se recco io Se recca Mamidi Se recca Cambia un po' Di differenza Di 5 5 10 fps Ma non cambia niente Quindi Ci sentiamo Se recca Alessandro Mino Ditch E 3 fps Ha 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 Try to do